Tanti i tuoi comodi, perché hai i tuoi comodi, tu hai la tua vita, ma io che dalla mia vita non ce l'ho a parte, hai capito? Io non ho situazioni sotto il sole, devo telefonare, devo telefonare, tu stai aspettando delle tue cose, per questo stai io, io devo telefonare, hai motivo di più, che non sto bene, che ho bisogno di cura, devo telefonare, se mi viene qualcosa di pezzo, poi cosa fai? E' meglio, io sono venuta pronta, me ne fregano, se sto meglio, con grazie di Dio, perché mi hanno tenuto qualche giorno in ostia, ma io devo trovare subito una soluzione, subito una soluzione, che non sarà nei dormitori, perché io non andrò mai, costo che morirò, in un dormitorio, io non sono nata in una strada, non andrò in dormitorio, in tale ambiente, ma neanche se mi pagano, anche qui? Quindi, la mia soluzione è Dio e la chiesa, famiglia non ne ho, Dio, chiesa, chiesa, Dio, la mia supplica è verso Dio, che apre il cuore a qualcuno di chiesa, ci venga incontro, pare di sì, adesso c'è una possibilità, dobbiamo scoprire qualcosa che alcuni non sappiano, ma se non facciamo un giro di telefonare, e non proviamo a parlare con il pastore, dimmi, o con Angelo, dimmi, come facciamo a sapere se non ci possiamo venire in incontro, per un mese almeno in cominciare, il tempo di riprendersi, io non ho l'efforcio, ormai sono venuta a scontare, ma sono troppo amicina, non sto bene, non ho l'efforcio, ho bisogno di riprendere il posto, non voglio avere altri problemi, e basta, o di solito, qualche giorno, mi sarei libero, saremmo persi, io voglio trovare una soluzione, caspita, e basta, o di solito, qualche giorno, mi sarei libero,